Sostengo per Luigi Bersani alle primarie del 25 novembre perché la ritengo la migliore risorsa per il centro-sinistra, competente e ha esperienza, nell'intendo del suo programma pone il lavoro al centro delle proprie politiche, definisce il lavoro come il cuore del suo progetto politico e come il parametro di tutte le azioni politiche che devono essere messe in campo. Questo è un dato importante, vuole rilanciare il paese, vuole rilanciare l'industria, vuole porre al centro i diritti dei lavoratori, contrastare la precarietà, fare le riforme necessarie, cambiare le parti negative della riforma Fornero per quanto riguarda il mercato del lavoro. Sulla riforma della pensione pone al centro i lavoratori usuranti, questione non secondaria, quindi tante buone idee ci sono per sostenere Luigi Bersani alle primarie del 25 novembre.